Cari amici di Controvento, un caro saluto da Diego Fusaro. È divenuta quasi una moda quella che ripete a pieso spinto che più di tutto conta la salute e che all'occorrenza per la salute occorre essere disposti a sacrificare financo la libertà, quasi come se appunto in nome della salute tutto, compresa la libertà, potessero all'occorrenza essere sacrificati. Eppure uno sguardo anche solo a volo d'angelo sulla storia dell'Occidente ci insegna che mai l'Occidente ha ritenuto che la libertà potesse essere sacrificata per la salute, anzi al contrario propriamente la nostra storia ci mostra come l'Occidente in casi estremi sia stato disposto a sacrificare la salute e la vita per la libertà. Dalle Termopili alla Resistenza passando per il Piave, citando solo alcuni tra i molteplici episodi che hanno costellato il corso storico dell'Occidente. Il fabula docet è che nei casi estremi la vita può essere sacrificata in nome della libertà. Che cosa sarebbe accaduto alle Termopili se si fosse ritenuto che la vita valeva più della libertà? Che cosa sarebbe accaduto ai tempi della Resistenza se fosse stato introiettato il principio per cui in nome della salute occorre saper rinunziare alla libertà? Sono domande ovviamente che non possono determinare la storia, ma che ha senso porre per comprendere se non altro in maniera contrastiva le assurdità in cui pare avvolto il nostro presente. Anche perché, possiamo dirlo credo ormai senza tema di smentita, chi sia disposto a rinunziare alla libertà per guadagnare la vita molto spesso perde poi anche la vita senza essere più libero. Possiamo dirlo ancora con più fermezza, in verità quella senza libertà non è nemmeno più vita, questo è il punto fondamentale. Quando anche ammettessimo che la libertà e la vita hanno lo stesso diritto, hanno la stessa importanza, ebbene bisognerebbe essere pronti a riconoscere, io credo, che una vita senza libertà non è più vita, non merita di essere vissuta e quindi val sempre la pena mettere a repentaglio la vita per difendere la libertà.